buongiorno dagli studi di obiettivo news oggi 7 febbraio e san riccardo re ed è anche la giornata mondiale contro il bullismo e cyber bullismo scelta per sensibilizzare le persone l'iniziativa è stata introdotta nel 2017 dal ministero dell'istruzione proprio il giorno stesso del safari internet day e nell'anno della sua nascita si chiamava prima giornata nazionale contro il bullismo a scuola e già dal nome si può intuire l'obiettivo di tale iniziativa sensibilizzare gli studenti sui fenomeni del bullismo e del cyber bullismo il safari internet day vuole invece sensibilizzare a un uso più consapevole di internet con un particolare occhio di riguardo ai giovani e alle famiglie le attività online che si svolgono in casa sono sempre di più dallo smart working alla didattica dal gaming alla fruizione di contenuti multimediali ma non solo l'età delle persone che accedono a internet si abbassa sempre di più